La volontà della maggioranza è di fare approvare la riforma costituzionale prima della pausa estiva perché nel mese di settembre ci attendono altri impegni quali la legge di stabilità e la delega sul lavoro. Questo significa adottare un orario parlamentare, come abbiamo visto, funzionale all'approvazione prima della pausa estiva ma allo stesso tempo anche invochiamo l'iniziativa politica del governo affinché si ascoltino le ragioni di tutto il Parlamento e si cerchi una condivisione quanto più ampia possibile in modo che l'ostruzionismo cada sia per fatica parlamentare ma anche per ampliamento del consenso sul testo di riforma.